salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo video sono nella home di youtube ma non nel mio canale sapete perchè? come dal titolo? perchè mi sono fatto un nuovo sfondo con una carta bellissima moltiplicata ecco perchè non ve l'ho messo a home già vedete da qua la cirame z-chrome leggendo bene tenetevi pronti perchè il mio canale è ole guardate qua si vede benissimo z-chrome la sua ideale bellezza nera e la sua verità bianca e la sua bellezza e la sua bellezza di verità bianca bellissima bene se vi piace lo sfondo iscrivetevi al mio canale però per questo sfondo ringrazio moltissimo un utente che stimo moltissimo maurizio37959 metterò il link in descrizione perchè lui perchè è stata come dire io ho deciso di metterlo come sfondo ma la foto me l'ha inviata lui perciò è un po' e merito anche suo perciò metterò il link in descrizione iscrivetevi al suo canale un bel canale ecco lo faccio vedere anche la foto di riusciro bel canale se l'ha creato lui va bene questo è tutto dal vostro multicanale 10 potete commentare e iscrivetevi al mio canale maurizio37959 che il mio sfondo è bellissimo ma è stato merito anche di maurizio37959 e lo ringrazio solennemente grazie maurizio37959 grazie di tutto grazie per avermi inviato la foto di riuscire a mezzacrom leggenda bene ragazzi il video finisce qui votate e commentate e iscrivetevi al mio canale al canale di maurizio37959 ci poterò mettere il link in descrizione e ciao riuscire a mezzacrom ciao